Buonasera ai telespettatori di Rete7, ben ritrovati dopo la pausa pasquale. Intanto la prima informazione utile, dal 31 marzo non è più in vigore l'ordinanza emergenziale anti-inquinamento. Nessun blocco del traffico, quindi permangono i consueti divieti relativi dal lunedì al venerdì ai soli veicoli benzina Euro 0, diesel Euro 0, 1, 2. Veniamo alle notizie di oggi, martedì 3 aprile. Alle 20.45 all'Allianz Stadium, l'incontro di calcio Champions League Juventus-Real Madrid. Utilizzate se potete il mezzo pubblico, la metropolitana, sino a Piazza Bernini e poi la linea 9 Barrato che vi condurrà sino allo stadio. Sino a oggi le linee 3 e 10 sono gestite con autobus. Veniamo alle notizie di domani, mercoledì 4 aprile. Domani e dopodomani è chiusa la corsia Ovest di lungo Podiaz tra Via Giolitti e Corso Cairoli per lavori. Semafori in manutenzione sino alle 12 di venerdì in Corso Giambone, Angolo Corsica e Croce. Domani alle 9 al Pian dell'Otta la cerimonia di commemorazione nel 74esimo anniversario dell'Eccidio. Prosegue sino al primo maggio al Parco Carrara Cirque Cuba, è il Circo Nazionale de Cuba. Domani, venerdì, sabato e lunedì al Pala Alpitour Corso Sebastopoli Concerto di Giovanotti. Domani dalle 19 alle 20 da Corso Vercelli 15 e 20 in pedalata Corso Vercelli 6-2. Domani sera alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino, incontro di calcio di Serie A Torino-Crotone. Per questo dalle 13 alle 23 sarà chiusa Via Filadelfia e verranno deviate le linee 17 e 17 barrato della GTT. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.